Sa, sa, prova, sa, prova, sa, prova, sa, dovrei trovare una intro. Guarda il demore se si vede il, se si vede me, se sono a fuoco io. Sono a fuoco? Ti vedo le tette. Comunque, questo è il microfono che sto usando, ora iniziamo male. Iniziamo male perché sta andando tutto male. Ho aperto un canale e ho preso il microfono, che è ancora qui, e non funziona. L'altro giorno stavo montando un video e ho perso tutti i dati. C'è la scheda SD che non funziona più, ho iniziato a riprendere, a farle riprese col telefono, come questa. Non riesco a trasferire i video dal telefono a computer. Cos'altro? Cos'altro è successo? Mi sono lamentato di qualcos'altro. Vabbè, userò questo canale come diario di bordo perché tanto, finché siete in dieci a guardare i miei video, fa niente, fa parte del percorso. Il fallimento è parte del successo. Fallire non è... Fallimento non è il contrario del successo. Il fallimento è parte del successo. Basta.